La CISD Funzione Pubblica ufficializza le nomine dei coordinatori delle professioni sanitarie per Agrigento, Caltanissette ed Enna. Sono Carmelinda Cipolla, Vincenzo Spoto e Ghetano Pastro. E la dimostrazione fanno sapere dalla segreteria delle tre province dell'attenzione che come sigla di categoria riponiamo nei confronti di questo comparto, in particolare alle specificità professionali degli operatori sanitari che negli ultimi anni sono stati messi a dura prova da una pandemia globale, senza spesso il riconoscimento effettivo del lavoro svolto. Sono tante le emergenze con cui ci confrontiamo e ci confronteremo, a partire dalla carenza di personale che sta oggi mettendo a dura prova questi operatori. La CISD Funzione Pubblica, appartenente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, è una federazione nata nel 1999. A livello nazionale sono oltre 240.000 gli iscritti, donne e uomini che lavorano nella pubblica amministrazione e nel mondo dei servizi pubblici e privati, rappresentati in particolare i dipendenti della sanità e dell'assistenza pubblica e privata, dei ministeri, degli organi dello Stato, dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle regioni, degli enti pubblici non economici, delle agenzie e del terzo settore.